Nel giorno in cui Stellantis ha deliberato il stacco di 4,7 miliardi di dividendo nell'assemblea degli azionisti in Olanda, capita anche che la stessa società abbia deciso di mettere in cassa integrazione per 2.000 lavoratori degli stabilimenti di Mirafiori e notiamo bene una cosa, che mentre un lavoratore va in cassa integrazione e subisce un fortissimo taglio dello stipendio, viceversa i top manager della Stellantis, in particolare del Carlos Tavares, l'amministratore legato, ha un aumento di ben il 55% dello stipendio del 2022, che lo stesso presidente della Francia, nonché azionista di Stellantis, Emmanuel Macron, aveva bollato come scioccante ed eccessivo l'aumentare astronomico delle retribuzioni erogate a Tavares. Come al solito la società viaggia a più velocità con qualcuno che è privilegiato e protetto e altri che stanno semplicemente a guardare accontentandosi di quel che passa il convento. Ne parliamo in questa puntata dello schiacciassassi, ma prima vi ricordo di mettere il mi piace e di condividere i contenuti con i vostri amici, a tra poco dopo la sigla. Cari amici vicini e lontani, bentornati alla nuova puntata dello schiacciassassi da parte di Stefano Elena. La Stellantis ha svolto la propria assemblea in quella Olanda, nel paradiso fiscale, dove gli azionisti di riferimento hanno un voto che vale il doppio più altre amminità anche di carattere fiscale, perché c'è un ruling molto favorevole, molto migliore di quello che vi dice in Italia, e hanno deliberato lo stacco di ben 4,7 miliardi di dividendi agli azionisti, tra cui anche il governo francese. Ma parimenti al stacco di un dividendo così ingente, hanno anche deciso che lo stabilimento di Mirafiori a Torino andrà in cassa integrazione a zero ore per oltre 2.000 dipendenti. E tutti sanno che quando un dipendente va in cassa integrazione, per lui sono dolori, perché lo stipendio che riceveva subisce un fortissimo taglio con un tetto che viene posto a circa 1.300 euro netti al mese, non uno di più, non uno di meno. E per tanti che sono alle prese con il pagamento del mutuo della casa, magari con le rate dell'acquisto dell'autovettura Fiat, del gruppo Stellantis o forse meglio ancora della concorrenza, si pronunciano fior di dolori, anche perché la programmazione che ha fatto Stellantis per quanto riguarda le produzioni in Italia, così come è stato sottolineato più volte anche dal ministro del prodotto in Italia Adolfo Urso, è stata quantomai traballante per una realtà come quella di Mirafiori che doveva essere rilanciata per il polo dell'elettrico che è sempre più zopicante, giustamente, perché l'elettrico imposto per legge non va da nessuna parte, ma soprattutto per quello che doveva essere il polo di lusso della Maserati con tanti prodotti che avevano anche un certo mercato che sono stati messi fuori produzione senza avere alcun sostituto, come nel caso del SUV di lusso Levante, che è stata cessata la produzione senza averne un successore. Il problema che stride agli occhi della società e probabilmente anche degli stessi azionisti che, guarda caso, ben il 30% di coloro che erano presenti in assemblea ha votato contro le delibere volute da Elkan, presidente dell'assemblea e anche da Tavarsi, amministratore delegato, ha fatto sì che ha stupito soprattutto il discorso dell'aumento del 55% del già pingue stipendio dell'amministratore delegato Tavares del 2022 che va a posizionarsi alla bellezza di 23,5 milioni di euro, con la possibilità di avere anche un ulteriore bonus a seconda se l'impresa conseguirà gli obiettivi fissati. Un livello simile è decisamente elevato, anche se la stessa azienda si espertica nel dire che è in linea con le retribuzioni delle manager internazionali del settore. Però lo stesso presidente della Repubblica Francese, che incidentalmente è anche azionista del gruppo Stellantis con circa il 7% delle azioni, nel 2022, quando Tavares si era accontentato di solo 14,9 milioni, aveva definito un emolumento scioccante e decisivo e soprattutto astronomico come livello assoluto. Anche perché non si capisce come faccia Tavares a spendere una simile ammontare di denaro e soprattutto ad essere valutato così tanto, quando bene o male i risultati concreti della sua gestione, quando i modelli del suo gruppo si riducono praticamente ad essere semplicemente un grande clone di prodotto base e soprattutto imitazioni di quelli che sono i prodotti diciamo capolinea, quindi la linea di Peugeot che viene imitata da Citroen, poi ripresa da Fiat, ripresa anche dalla neonata Lancia, adesso imitata dal rilancio dell'Alfa Romeo ex Milano ora Junior e giù giù fino al gruppo dell'Opel. Ebbene, l'identità dei prodotti del gruppo pare che siano andati un po' a farsi friggere perché se si guarda nei dettagli uno sembra il clone dell'altro, ma soprattutto anche per quanto riguarda la tecnologia perché sotto la pelle della carrozzeria i modelli sono tutti uguali, con la meccanica praticamente tutta made in France, con i motori sviluppati dal gruppo Peugeot Citroen, con quelli che una volta erano dei autentici gioielli del gruppo Alfa Romeo che hanno solamente una funzione residuale e nonostante ciò i problemi di affidabilità dei motori, pensiamo semplicemente all'ultimo caso della cinghia di distribuzione del motore a benzina Peugeot 1.2 tre cilindri PureTech che pare che si sbricioli e che ha già costretto la casa a sostituirla passando alla più robusta catena di distribuzione, ma soprattutto che ora espone la casa anche a una colossale azione di class action nei confronti dei acquirenti che si sono visti in alcuni casi anche gravi danni per la rottura della cinghia di distribuzione e tutta la distribuzione del motore interno vi dicendo. Ecco il problema è che al giorno d'oggi Stellantis pare averci testa semplicemente per le grandi distribuzioni ma poco per quanto riguarda il prodotto in se stesso, tant'è vero che le vendite pur essendo buone ancora, languono soprattutto su quello che è il marchio del ex gruppo Fiat, quindi Fiat, Alfa Romeo e adesso la Lancia che sta accettando un difficile rilancio. Ma se queste non vengono riprese e soprattutto non si va a produrre in Italia, anche se i costi di produzione sono decisamente più alte, tant'è vero che lo stesso Tavares ha detto che non si è potuto produrre l'Alfa Romeo ex Milano ora Junior in Italia ma in Polonia perché ballavano 10.000 euro di extra costi ad anno dell'Italia, anche qua bisognerà capire cosa si può fare a livello governativo, a livello di politiche e soprattutto anche a livello industriale per poter limitare questo differenziale di costi, anche perché l'impresa deve ricordarsi che oltre a fare il legittimo e doveroso lucro, i dividendi fin troppo elevati distribuiti dagli azionisti, deve avere anche una certa responsabilità sociale senza doverla scaricare sempre e comunque sugli acquirenti del prodotto ma soprattutto anche sulle proprie mastranze perché come nel caso degli operai che finiscono in cassa integrazione e che non sanno cosa gli aspetterà pro futuro, su queste le stesse imprese dovrebbero avere maggiore capacità di organizzazione delle proprie attività produttive e soprattutto un miglior cronoprogramma che vada a garantire anche la continuità di prodotto e soprattutto la continuità della produzione e delle retribuzioni di chi ci lavora. Tutto il resto è sempre la solita fuffa dove chi è protetto e continua a sorridere e a guadagnare sempre di più a prescindere dalla effettiva qualità del proprio lavoro mentre coloro che non lo sono che non hanno santi in paradiso dicendo devono semplicemente sperare nella buona stella che qualcuno gliela mandi buona sulla terra ma spesso così non è. Cari amici vicini e lontani in questa puntata lo schiacciassassi va a terminare prima di salutarvi vi ricordo di mettere il mi piace di condividere i contenuti con i vostri amici vi ricordo anche che se volete approfondire il tema trattato sul nord est quotidiano trovate maggiori dettagli che non in questo breve spazio. Intanto da parte di Stefano Elena un saluto e arrivederci alla prossima puntata sempre che lo vogliate ciao